Sogni di inizio estate, i soci di Arte ad Arona riprendono la loro attività culturale e artistica, chiaramente, allo spazio moderno qui ad Arona con una mostra che contiene più di 80 opere. Fino all'11 luglio ci saranno dei temi, quante novità, che cosa c'è Giancarlo in questa collettiva? Beh, innanzitutto c'è la voglia di ripartire e già questo non mi sembra poco, perché la pausa forzata che tutti quanti abbiamo patito è stata piuttosto pesante per tutto l'ambiente artistico e culturale. C'è rovescio della medaglia, chi di noi si è trovato recluso in casa ha avuto la possibilità di produrre, di più di quanto probabilmente non avremmo potuto fare se avessimo goduto della libertà di movimento. Un'ottantina di opere, quindi per questa occasione, delle bellissime opere che chiaramente fanno venire voglia d'estate e si potranno visitare in quali giorni? Allora, gli orari di apertura sono i soliti, nel senso che tutti i giorni della settimana, al pomeriggio dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica anche al mattino dalle 10 alle 12. Poi naturalmente siamo sempre stati elastici e non abbiamo mai cacciato alcun visitatore. Ci saranno delle attività collaterali? No, in questa occasione non abbiamo previsto alcun evento, semplicemente perché temevamo che la vicenda dei restringimenti dovuti al covid si prolungasse ulteriormente. Quindi già aver fatto una collettiva è stato un osare, perché oggi di fatto è il primo giorno in cui possiamo permetterci l'uso di andare in giro senza mascherine. Non c'è un tema particolare, cosa che invece solitamente è guidata. Sì, in effetti le istruzioni che abbiamo dato ai 37 soci che hanno deciso di partecipare a questa collettiva erano semplicemente due. La prima era il tema è libero, purché non portate soggetti invernali. E l'altra indicazione era, è stata, potete portare tre opere, vi garantiamo che almeno due verranno esposte.